Ha intercettato palla con un ottimo tempismo consentendo alla difesa di respirare. Ed è gol! Rete! È un gol che dimostra ancora una volta le straordinarie doti balistiche di questo giocatore. Non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza, ha scaricato in rete una bordata micidiale. Aveva spazio davanti a sé, non ci ha pensato. E forse con un giocatore così bisogna andare sempre molto attenti nella marcatura. Con questa rete a un...